Un allenamento con Forlì per preparare la prima di tre partite consecutive con Piacenza oggi? Sì, è stato un buon allenamento con la squadra di Forlì, ci stiamo preparando per questa serie di partite con Piacenza, siamo concentrate, stiamo lavorando bene e vedremo domenica. Avete provato un po' gli arei e i meccanismi, state riprendendo dopo il lavoro importante delle ultime settimane, sarà un po' una partita importante, sì per la classifica del campionato, ma anche per preparare le due successive di Coppa Italia. Sicuramente io penso che sarà importante per preparare le due partite successive di Coppa Italia, il campionato verrà e l'importante è la Coppa Italia adesso. Piacenza è un avversario che tra l'altro si è rinforzato molto ultimamente, vale più forse del settimo posto che era alla fine dell'andata che vi aveva portato loro come avversario. Sì, infatti stanno giocando molto bene in questo momento, faremo attenzione, speriamo di riportare, ce la metteremo tutta per riportare a casa questi tre punti di domenica e poi successivamente di far bene.